Marco Simoncelli scatta dalla terza casella della 2 e mezzo per montare al mondiale. La sua vita è sempre stata in salita. La moto ha un'anima che dialoga con quella del pilota per tutta la corsa. Se vuoi arrivare lassù in cima, è una guerra. Mi sono sentito subito la moto bene, quindi ho detto dai, dopo ci provo. Alla sua ruota! Però guidavo forte. Simoncelli ce la fai! Il suo obiettivo era, cioè io sarò il campione del mondo. Era uno molto aggressivo il Sizz, e ci siamo trovati subito. Ultimo giro! Dai, 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 dai! Come il Sizz? Un Cenecci. De Boa è un intercalare che usiamo in Romagna. C'è una brugola da 5. Un patacca romagnolo. E poi andava in pista e switchava completamente. Continua il duello tra Simoncelli e Bautista. Con un bel clima e volendosi bene si va molto lontano. Era una persona speciale. Nobile. Mi sta proprio addosso, dai. Si toccano. Ci mancano il grande balzo! Sono un pilota che non molla mai. Io lo chiamavo il mio guerriero, perché lui era eccezionale. Campionale il mondo! Campionale il mondo! Grazie a tutti